Ciao a tutti, oggi apriamo insieme questo squishy della marca SquishyFan, che mi è arrivato da Banggood. Allora, questo cornetto gigante. La confezione è fatta così, è molto semplice. Ho questa targhetta e purtroppo non si può richiudere, diciamo, perché come vedete qui è spillata, quindi bisognerà aprirla così, insomma. Adesso vado ad aprirla. Ok, come vedete appunto non si può richiudere. Questo è lo squishy, è super morbido al tatto, super soffice. Io ho scelto queste colorazioni giallo e marrone. E' morbidissimo. Ed è anche molto sotterizing, devo dire. Bellissimo. Veramente morbido. Ok, devo dire che veramente l'avevo fatto molto bene. E l'unica pecca, diciamo, è la confezione che secondo me poteva essere un pochino meglio, però non importa, insomma, è fatto molto bene lo squishy. Il prezzo non lo ricordo, perché tra l'altro io questo qui l'ho vinto in un giveaway di Giada, vi lascio qui il nome del suo canale. Però mi sembra sui 3-4 euro, credo, o 5 euro, non ricordo esattamente. Però non più di 5 euro, ecco. E niente, è veramente carino. Molto molto rilassante. E niente, quindi, io spero che questo video vi sia piaciuto. E mi raccomando, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi, mettete like. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!